Il Black Friday 2017 è finalmente iniziato, siamo all'attesa giornata di venerdì 24, sono arrivati gli sconti più importanti di questa settimana che però continueranno anche nei prossimi giorni fino ad arrivare a lunedì per il Cyber Monday quindi continuate a seguire la nostra pagina ufficiale del Black Friday www.readball.com slash blackfriday2017 ve la lascio linkata in descrizione qua sotto, troverete tutti i migliori sconti della rete divisi per categoria facili da navigare in modo tale da trovare subito quello che state cercando. Non vi lascio però boccasciuto, ho fatto una selezione dei migliori sconti che possiamo trovare oggi per quanto riguarda il mondo della tecnologia ma contaminato un po' anche con i videogiochi e la fotografia in modo tale da darvi una panoramica a 360 dei migliori prezzi di oggi. Inizio subito da una delle offerte più interessanti di oggi, Microsoft Surface Pro, quindi l'ultimo modello, l'ultima generazione con processore Core M3, modello base quindi con 4 GB di memoria RAM e 128 GB di SSD venduto in abbinata con la sua tastiera che è un accessorio oggettivamente fondamentale lo troviamo oggi fra le offerte del giorno su Amazon a 749€ un prodotto interessante venduto ad un prezzo oggettivamente concorrenziale dato il forte sconto dovuto anche al bundle con la tastiera. Tutti i prodotti di cui vi parlerò e di cui vi ho appena parlato li trovate linkati ovviamente in descrizione qua sotto. Se cercate uno smartphone beh allora è l'occasione giusta per portarsi a casa un Lenovo Motorola Moto G5S Plus il modello rinnovato del Moto G5 Plus che mi era piaciuto particolarmente viene venduto oggi a circa 199€ tra le offerte del giorno di Amazon un prodotto abbastanza scontato, solitamente si trova a circa 240-250€ può essere portato a casa sotto i 200€, una cifra che secondo me lo rende un perfetto regalo di Natale. Per quanto invece riguarda l'ascolto di audio vi posso consigliare due prodotti le cuffie JBird X3 che sono quelle che possiedo io vendute a 79€ una cifra un po' più bassa rispetto al prezzo di listino di circa 149€ e invece per quanto riguarda le casse Bluetooth c'è la Ultimate Ears Boom 2 che è una cassa molto carina a forma di tubo di Pringles venduta a 89€ è una cassa con un suono molto potente peraltro nello stesso giorno andrà anche in offerta il modello Mega Boom che è decisamente più grande, più potente e con una batteria di maggiore capienza. Se invece state cercando uno smartwatch Android Wear anzi forse il miglior smartwatch Android Wear attualmente in circolazione c'è lo Huawei Watch 2 venduto a 199€ nella sua configurazione Wi-Fi 249€ per il modello con 4G vi consiglio però il primo modello perché così riuscirete a risparmiare qualcosa ed avere praticamente tutte le funzionalità sportwatch che questo prodotto può offrire oggettivamente se siete amanti della corsa o comunque sia delle attività all'aria aperta è davvero un ottimo compagno. Qualcosa di interessante lo troviamo anche tra le offerte lampo sono offerte a tempo che hanno quindi una durata breve e soprattutto un numero di pezzi limitati per quanto riguarda le offerte lampo vi consiglio come sempre di andare a guardare bene i nostri articoli linkati qua sotto perché le offerte lampo possono cambiare all'ultimo minuto quindi ci può essere qualche variazione all'orario oppure al prezzo. Per le informazioni che abbiamo adesso ci saranno alle 17 di oggi venerdì 24 novembre degli SSD Crucial in taglio misto a partire da 275GB ad un prezzo di partenza di 79€ quindi se state cercando l'occasione giusta per cambiare la memoria del vostro computer potreste aver trovato appunto l'occasione giusta per voi. Il Black Friday è anche il giorno giusto per portare a casa una console oppure per regalarne una. Continuano le offerte sui bundle PlayStation 4 per 269€ si può portare a casa una PlayStation 4 Slim con FIFA 18 integrato nella confezione se invece volete il modello Pro pensato per il 4K e avere sempre FIFA 18 dovrete spendere 100€ in più. Queste offerte comunque erano già valide nei giorni precedenti e le ritroviamo per il Black Friday. Se invece fate il tifo per casa Microsoft c'è Xbox One S in sconto ad un prezzo davvero molto interessante tantissimi bundle misti avranno un prezzo di partenza di 179€ ce ne sono per tutti i gusti con o senza abbonamento integrato con o senza giochi integrati addirittura c'è un bundle con il nuovo Assassin's Creed Origins appunto venduto a 179€ davvero un prezzaccio. Se invece state cercando Nintendo Switch, l'introvabile Nintendo Switch vi consiglio di fare una levataccia perché andrà in sconto con alcuni bundle particolari con dei giochi inclusi in confezione a partire da 349€ nelle offerte lampo all'incirca dalle 6.50 di questo mattino quindi toccherà svegliarsi presto. Ancora una volta però andate a verificare i dettagli delle offerte lampo negli articoli dedicati in questo caso alle console Nintendo Switch linkate in descrizione qua sotto. Ma ci sono anche tantissimi giochi in sconto soprattutto per le varie piattaforme PC, PS4 e Xbox One dirveli tutti sarebbe impossibile vi segnalo un paio di sconti interessanti. Il nuovo FIFA 18 lo potete portare a casa a 49€ per tutte e tre le piattaforme quindi effettivamente spendere qualcosa meno su un gioco che è stato rilasciato da poche settimane e invece Battlefield 1 Revolution quindi la versione completa del titolo ormai rilasciato all'incirca un anno fa può essere portata a casa a 29€ un ottimo sparatutto da giocarsi in queste fredde giornate invernali. Gli amanti della fotografia infine vorranno tenere d'occhio le offerte lampo di oggi ma anche tra quelle del giorno c'è qualcosa che si nasconde ed è davvero molto interessante. Troviamo infatti la nuova Xiaomi Yi 4K Plus l'ultimo modello di action cam di Xiaomi che arriva al 4K a 60 frame al secondo e quindi è il competitor diretto di GoPro Hero 6 viene venduta con la sua custodia impermeabile a 239€ una cifra che è meno della metà della GoPro concorrente quindi se state cercando davvero un ottimo action cam da comprarvi o da regalare sotto a Natale forse avete trovato il prodotto adatto alle vostre esigenze. Tra le offerte lampo però troverete un paio di prodotti molto interessanti alle 9.20 di questa mattina ci sarà il drone DJI Phantom 4 Advanced quindi uno degli ultimi modelli a 935€ un prezzone per questo drone che sicuramente avrà una scorta molto limitata quindi mettetevi la sveglia perché alle 9.20 dovrete essere al computer per acquistarlo. Se invece cercate un cavalletto per rinnovare il vostro parco attrezzatura alle 17 date un'occhiata sempre alle offerte lampo perché andranno in sconto molti prodotti di Manfrotto. Come sempre per le offerte lampo vi consiglio di guardare molto bene gli articoli linkati in descrizione qua sotto. Insomma un Black Friday davvero molto ricco di offerte quelle che vi ho fatto vedere ora sono soltanto una selezione una cernita davvero molto stringente di tutti quei prodotti che in realtà andranno in sconto se volete sapere quali sono e cercate magari qualcosa di cui non vi ho parlato beh ci sono appunto gli articoli in descrizione qua sotto trovate anche i link per collegarvi alle pagine prodotto ed eventualmente metterli già nel carrello in attesa dello sconto effettivo magari per quanto riguarda le offerte lampo. Noi come sempre ci salutiamo e ci vediamo al prossimo video per ItBall.com Andrea Ricci